buongiorno a tutti anzi buonasera visto che sono quasi le otto terzo video di schedine e bollettine del gigione dopo aver fatto il campionato francese dopo aver fatto il campionato spagnolo con la libidine delle partite del sabato che potrebbero regalare gioie andiamo a fare il campionato inglese e anche qui devo dire che c'è la libidine anche se averli il derbone il derbone dal libidine coi fiocchi mi puzza mi puzza perché danno per scontata la vittoria del liverpool ma guarda un po che strano ma l'everton di ancelotti potrebbe essere pericoloso comunque quattro partite interessantelle tre sono mi a chieppano mi a chieppano come direbbe lino benfi mi a chieppano comunque partiamo va bando alle ciance ciancia le bande partiamo subito con everton liverpool x2 voglio fidarmi dei bookmaker però o come diceva quello là con la benda occhio perché l'everton lo scherzetto al liverpool glielo può fare quindi è un x2 ma attenzione alla sorpresa chelsea sotento 1 manchester city arsenal 1 e newcastle manchester united 2 qua mi tocco toccatina ci vuole però diciamo che si prestano molto a questi pronostici andiamo alle partite di domenica sheffield full 1x crystal palace brighton 1 2 tottenham west ham 1 lace estera aston villa 1 partite del monday night 18 e 30 e 21 west bromwich barnley partita da tripla tripla perché questa veramente è una partita che esula da qualsiasi risultato quindi quando esulano io mi arrischio l'1 2 però vedete voi magari non la giocate giocatevi l'over giocatevi l'under giocatevi la vostra multigol casa 1 4 che a voi piace molto a me francamente il multigol non mi dice una beata giovanna infine leeds wolverenton 1x perché il l'1 di bielsa sta facendo un gran bel campionato non è facile da battere e diciamo che tendenzialmente in casa andare a vincere in casa dell'1 anche se non c'è il pubblico o comunque c'è ma non è strapieno lo stadio presumo è vedendo un attimino com'è la situazione lo loro stadio si l'hanno riaperto però mi sembra che non siano ancora aperti al 100 per cento però certo rispetto a noi che ci abbiamo mille mille spettatori a vedere la partita dell'italia c'erano i sindaci con tutti con la fascia no bello una cosa carina per rispetto alla provincia di bergamo che è stata stracolpita dal covid però francamente c'è io agli tifosi non sempre lasciamo perdere sorvogliamo speriamo per la prossima primavera di rivedere gli stadi belli gremiti come una volta e non doveva andare più in giro con ste kaiser di mascherine come i cani come li cani veniamo alla schedina alternativa everton liverpool goal chelsea southampton goal manchester city arsenal goal tutte e tre a mio rischio e pericolo quindi vedete voi come gestirvele newcastle manchester united stoskiscio over un e mezzo partita di domenica sheffield full amor over un e mezzo crystal palace brighton over un e mezzo ma attenzione perché questa mi odora di under tre e mezzo per sicurezza fate l'obis tottenham west ham over due e mezzo mi voglio fidare del tottenham di mr josue murriniu le cesser arston villa 1 poi west bromwich barley no scusate cos'ho detto le cesser arston villa over due e mezzo si ciao 1 ve l'ho già detto le cesser arston villa 1 west bromwich barley over un e mezzo anche se anche questa no questa diciamo sto sull'over un e mezzo ma mi puzza di gol poi mi sbaglierò finisce 0 a 0 2 a 0 eccetera mi dice eh gli avevi detto che ti puzzava eh va bene e l'heats wolverenton invece questa mi puzza di 2 a 1 1 a 1 eccetera 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 quindi gol andiamo alle bollettine diciamo che ho scelto una partita del sabato quella che mi sembra più tra virgolette perché di scontato lo sapete nel calcio non c'è nulla però mio rischio e pericolo mio rischio un celsis ottenham 1 partita del sabato sheffield fulham 1 partita della domenica tottenham west ham 1 partita della domenica e l'essessa arston villa 1 partita della domenica con 5 euro se ne vincono 46,15 sempre a mio rischio e pericolo nella bollettina delle doppie lascio celsis ottenham 1 sheffield fulham 1x tottenham west ham 1 l'essessa arston villa 1x con 5 euro 18 euro e 51 terza bollettina celsis ottenham 1x piove sheffield fulham 1x piove tottenham west ham 1x piove l'essessa arston villa 1x piove con 5 euro 22 euro e 39 per i più coraggiosi vi ho fatto altre due bollettine con quote un attimino più alte cambiando una cosa quindi celsis ottenham 1x piove tottenham west ham 1x piove l'essessa arston villa 1x piove in questo caso si vincerebbero 28 euro e 41 con 5 euro per quelli ancora più coraggiosi che vogliono vincere ancora di più celsis ottenham 1 piove ceffield fulham 1x piove tottenham west ham 1 piove e l'essessa arston villa 1x piove in questo caso con 5 euro due doppie e due fisse si vincerebbero 37 euro e 39 tac e abbiamo concluso anche la terza bollettina quarta bollettina quella che come vi dico sempre a me fa libidine quindi celsis ottenham gol ospite ceffield fulham gol ospite tottenham west ham gol ospite l'essessa arston villa gol ospite con 5 euro 20 euro e 06 quattro volte l'apposta mi sembra un bel prendere con ottime probabilità poi tra l'altro nella sfiga del nation league che ho fatto veramente piangere e ridere i polli quello che volete mi metto la cenere in testa per chiedovenia l'unica che ho preso era proprio una di quelle che mi fanno libidire me l'ha fatta notare uno dei miei follower andiamo alla quinta bollettina celsis ottenham gol piover sheffield fulham gol piover tottenham west ham gol piover l'essessa arston villa gol piover con 5 euro 89 euro e 38 vi dico che l'unica partita in cui il gol piover non è favorito e anche di un pochino perché c'è una differenza di 0,65 ecco per intenderci e sheffield fulham le altre tre sono tutte e tre favorite quindi o vi giocate tutte e tre il gol piover e sheffield fulham fate no gol più and o vi giocate solo le tre col gol piover che comunque fa libidine prendereste comunque una bella cifrettina lo stesso presumo intorno ai 50-60 euro con 5 euro e ci sta o se no rischiate e la giocate così e se la va la gaigam e vi portate a casa 89,38 euro infine l'ultima bollettina quella folle ma non troppo visto che già una volta l'ho già presa siamo solo alla quinta o sesta giornata del campionato inglese quindi già prendere sei bollette io già sono contento sono già posto tutto l'anno comunque se ne prendo delle altre tanto meglio ma dicevo fare l'unplend di tutte e sei le bollette è tanta roba comunque ultima bollettina Chelsea Tottenham uno più gol Sheffield fulham uno più gol Tottenham West Ham uno più gol e le ceste e la Stonvilla uno più gol con 2 euro se ne vien con 246,38 quindi pochini pochini ma sono sempre soldi con 5 euro 615,95 siccome Chelsea Tottenham l'uno più gol non è favorito anche se di pochissimo e Sheffield fulham l'uno più gol proprio danno per scontato una vittoria risicata 1-2-0 e comunque che il fulham o lo Sheffield una delle due non segnino nel caso visto che ho messo uno più gol presumo lo Sheffield vi faccio la bollettina alternativa con due gol e due no gol quindi Chelsea Tottenham uno più uno gol Sheffield fulham uno più uno gol Tottenham West Ham uno più gol e le ceste e la Stonvilla uno più gol in questo caso con 2 euro se ne vien con 149,72 contro le 246 quindi c'è 100 euro che ballano più o meno e con 5 euro se ne vien con 374,32 rispetto ai 615 dovete vedere voi se rischiare il mio uno più gol globale come vi dico sempre giocatevi 2 euro o se mischiare un attimino i pronostici e creare la bollettina su misura che vi acchiappa detto questo io vi saluto vi ringrazio mi appresto a caricare anche questo così lo vedrete dopo il campionato spagnolo se tutto va bene dovrebbe essere online verso le 22-22.30 di giovedì sera male che vada lo vedete al venerdì mattina con calma io mi auguro che entro venerdì mattina ci siano già online tutte le bollettine per quanto riguarda i marcatori della Serie A lo sapete ve lo faccio al venerdì che so un attimino le formazioni vedo anche come sono messi i giocatori che rientrano dalle nazionali con il Michael Covid e quant'altro ciao